santa gemma galgani da estasi diario autobiografia scritti vari impara come si ama mi dava il pensiero di non saperlo amare ma gesù che nell'infinita sua bontà non si vergognava di umiliarsi fino a farsi mio maestro un giorno per rendermi tranquilla in tempo che facevo le preghiere della sera mi senti tutta internamente raccogliere mi trovai per la seconda volta davanti a gesù crocifisso che mi disse queste parole guarda figlia e impara come si ama e mi mostrò le sue cinque piaghe aperte vedi questa croce queste spine questo sangue sono tutte opere di amore e di amore infinito vedi fino a qual segno io ti ho amato mi vuoi amare davvero impara prima a soffrire il soffrire insegna ad amare provai a quella vista un nuovo dolore pensando all'amore infinito di gesù per noi e ai patimenti che aveva sofferti per nostra salvezza svenni caddi per terra e mi rinvenni dopo parecchie ore tutto quello che mi accadeva durante queste preghiere erano consolazioni grandissime che se anche le avessi prolungate per più ore non mi sarei mai stancata ogni giovedì continuavo a fare l'ora santa ma mi accadeva alle volte che quest'ora durasse fino anche circa le due perché me ne stavo con gesù e quasi sempre mi faceva parte di quella tristezza che provò nell'orto alla vista di tanti peccati miei e di tutto il mondo una tristezza tale che può ben paragonarsi all'agonia della morte dopo tutto questo rimanevo in una calma così soave in una consolazione che bisognava che mi sfogassi in lacrime e queste lacrime mi facevano gustare un amore incomprensibile e aumentavano in me il desiderio di amar gesù e patire per lui grazie grazie